Regali al veleno a mai finire. La politica gelese, quella in particolare dell'ultimo ventennio, ha lasciato in eredità agli ignari gelesi una montagna di debiti. Debiti che prima o poi bisognerà pagare, su questo non c'è dubbio. E la vigliaccheria più feroce è che per garantirsi la loro ascesa politica, questi signori che hanno contratto senza colpo ferire questi debiti a carico dei gelesi, li hanno nascosti per tanti anni. E a passare dalla cassa saranno le nostre future generazioni, che nasceranno o stanno nascendo sapendo che avranno sul groppone, senza averne la minima colpa e responsabilità, un malloppo di cambiali da andare a saldare. Debiti su debiti su debiti. Una maledetta macchina infernale che ha prodotto una quantità spaventosa di debiti appunto, i famosi debiti fuori bilancio che oramai sono diventati l'argomento principe del dibattito politico in città. Non c'è consiglio comunale, infatti, nel quale non si parli di questo. Prima era un argomento tabù, nessuno ne parlava, soprattutto chi li contraeva quei debiti. Che, come la peggior massaia di questo mondo, che nasconde la polvere sotto il tappeto, si sono ben guardati dal far conoscere ai poveri gelesi cosa stavano combinando al loro destino. Poi, improvvisamente, la vicenda dei debiti fuori bilancio è esplosa in tutta la sua reale gravità. Era l'estate del 2014, quando la Corte dei Conti faceva esplodere la pentola a pressione dei debiti fuori bilancio gelesi. 36 inviti a dedurre per altrettanti, tra amministratori, consiglieri comunali e dirigenti del Comune. Tutti invitati, appunto, a pagare pesanti sanzioni pecuniarie per avere taroccato i bilanci del Comune, dove avrebbero dovuto transitare quei debiti che, invece, continuavano ad essere nascosti come la polvere sotto un tappeto, che però, nel frattempo, era diventata una montagnola davvero molto vistosa. Solo due di quei 36 amministratori si rifiutarono di pagare e si opposero a quell'accusa. L'ex assessore alla pubblica istruzione, l'avvocato Marina Laboria, e l'ex consigliere comunale, Terenziano Di Stefano. Gli unici che accettarono al loro rischio e pericolo di affrontare il giudizio dei magistrati della Corte dei Conti. A due anni da quell'agosto 2014, Laboria e Di Stefano hanno vinto la loro battaglia, venendo assolti per ben due volte dall'accusa dalla procura della Corte dei Conti, ed ora in maniera definitiva, facendo valele le loro estranetà ai fatti contestati. Di tutto questo si è parlato ieri sera ad Agorà. Il rotocalco settimanale della nostra emittente ha ospitato lo stesso avvocato Marina Laboria e dal telefono anche l'ex consigliere Terenziano Di Stefano. Oltre ai due protagonisti dell'assoluzione dall'accusa della Corte dei Conti, in studio, assieme al conduttore, anche il sindaco di Gela, Domenico Messinese, che ha tra l'altro spiegato a quanto ammontano i tanti, tantissimi debiti fuori bilancio lasciati in dote ai gelesi dai precedenti amministratori comunale e che inoltre non è vera la notizia che quest'anno la Tari sarà aumentata del 40%. A completare il parterre degli ospiti di Agorà, anche l'ex assessore all'urbanistica del Comune di Gela, Peppe D'Aleo, l'ex presidente del Consiglio Comunale, Peppe Fava, e l'ex consigliere comunale del PD Rocco Giudice, tre che invece hanno accettato di pagare la sanzione imposta dalla Corte dei Conti e ne hanno spiegato i loro motivi. Chi volesse rivedere questa nuova interessante puntata di Agorà potrà farlo con la replica integrale che andrà in onda domani sera alle ore 21 su canale 10 o sui nostri indirizzi social già a partire dal primo pomeriggio di oggi. Agorà tornerà in diretta venerdì prossimo in prima serata, come sempre con al centro Gela e di Gelesi.